Le stelle di Azus Le stelle di Azus Leone sarebbe il caso di cercare nuovi collaboratori o iniziare un lavoro di equipe in società Tutte le questioni illegali saranno importanti in questa giornata Vergine dovete mettere in mostra le vostre qualità, fate una proposta, prendete di petto un avversario Insomma fate capire che non siete affatto disposti a subire Bilancia il periodo rimane davvero molto favorevole E la luna di oggi sembra volervi dare una mano decisiva sul lavoro Vi aiuterà a prendere una decisione Scorpione, i nuovi progetti di lavoro forse saranno ostacolati da persone che dimostrano di temervi Oppure sono invidiose del vostro successo In amore godetevi la serata Sagittario, troverete degli alleati preziosi che possono sbloccare qualche situazione professionale E in più riceverete delle notizie che rappresentano una piccola svolta Capricorno, ottima luna per concludere un affare, per firmare un contratto, perfezionare una compravendita È una giornata che può portare nuove proposte di lavoro Acquario, una bellissima luna illumina questa giornata ricca di occasioni Potete tranquillamente decidere di avventurarvi in una nuova impresa professionale o sentimentale Pesci, la luna transita nel settore della famiglia Il sostegno delle persone che vi vogliono bene in questo momento è decisivo E può tirarvi fuori da situazioni un po' antipatiche Ecco l'oroscopo di oggi è tutto Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook Alla pagina Oroscopo di Azus